Fabio tu sei uno contro, no non sei uno contro diciamo che contro contro no però un po' contro diciamo che ho apprezzato la musica di questo signore non tanto la lotta che ha fatto sono uno a favore diciamo più che altro avevo una domanda io vedo negli Stati Uniti se non tutti la stragrande maggioranza degli attori sono impegnati nel sociale o comunque nel politico in Italia invece gli attori prestano la loro immagine come testimonial per prodotti vari tu invece hai un'organizzazione che ha degli scopi ero curioso e penso anche tutti noi siamo curiosi di sapere di cosa si occupa questa organizzazione io mi leggo i soldi in pancia attraverso il Messico che è pericoloso per andarli a portare direttamente io ho cominciato la mia attività allora diciamo che ho sempre pensato che ognuno di noi dovrebbe fare qualcosa piccolo o grande che sia ed è l'unico modo forse in cui questo mondo può cambiare e avendo avuto sempre una passione per gli indiani d'America per i Maya ho trovato negli indigeni zapatisti qualcosa di molto moderno e nella rivolta zapatista perché hanno veramente cambiato qualcosa hanno avuto una forza comunicativa incredibile sono quelli che in realtà hanno soprattutto in ordine cronologico cominciato il movimento alter mondialista sono stati i primi a lottare contro il neoliberismo e quindi ho detto loro saranno la mia attività la cosa che posso fare quindi partì nel 2003 come osservatrice internazionale dei diritti umani in una comunità dove arrivava l'esercito praticamente ogni giorno il governo soprattutto quando gli uomini e i bambini andavano a lavorare quindi rimanevano nelle comunità solo le donne per questo era importante la presenza degli osservatori e da lì che fu comunque un'esperienza breve poche settimane pensai che cosa posso fare allora mi parlarono dei gemellaggi io usando il mio lavoro di attrice tornai nella mia provincia la provincia di Ragusa dicendo insomma che si poteva fare un gemellaggio con le comunità indigene zapatiste cosa che è avvenuta quindi esiste un gemellaggio tra i 12 comuni della provincia di Ragusa e 72 comunità indigene zapatiste del sud del Chiapas vicino a Palenche che è una zona meravigliosa e da lì abbiamo cominciato poi chiedendo a loro insomma quello che potevamo fare a fare piccole case di salute corsi per promotori di salute e devo dire che ad esempio aiutare loro è anche un po' più facile perché hanno già loro una loro organizzazione quindi c'è un modo di far fruttare questi soldi che appunto noi ci leghiamo in pancia e mia madre devo dire che a proposito insomma finita l'epoca del film erotico cominciai a fare le fiction televisive e si erano anche tranquillizzati adesso hai ripreso con il Messico quindi l'hai fatti contenti di nuovo come l'ha fatto ma sei l'unica immagino a degli attori italiani a interessarsi a questo tipo mi fa strano che ti occupi così direttamente sì ma ti dico io alla fine se non avessi fatto l'attrice avrei fatto la documentarista reporter di guerra quindi ho sempre avuto ce l'hai un po' l'interesse sì ho sempre avuto questa cosa e quindi ti dico per me il mio lavoro è quasi più un mezzo ecco grazie alla popolarità ho fatto fare il gemellaggio quando Jenny prende il microfono vuol dire che c'ha qualcosa di fondamentale da dire non lo so però ecco volevo fare una domanda tu ci hai parlato con grande entusiasmo della tua esperienza quindi ecco con trasporto l'abbiamo sentito penso tutti quanti ritornando al discorso di Zulu cioè sul cliché che ormai è diventata probabilmente sono diventate tutte le officine tutti i centri sociali praticamente volevo sapere secondo te dietro questi miti nuovi questa chiusura mentale poi diversa dalla cultura dominante ma probabilmente diversamente chiusi sono i centri sociali ecco secondo te non hanno perso un po' l'azione propulsiva che avevano prima di guarda io la mia attività si svolge anche in Italia ho partecipato a diverse cose anche manifestazioni cosiddette movimentate gruppi eccetera eccetera e quindi posso dire che è vero che c'è una chiusura è vero la cosa che io ho più rimproverato è questa che se non sei esattamente anche esteticamente come loro ti guardano con un po' di sospetto però devo dire che che fanno anche delle cose cioè hanno aperto che ne so ti parlo della mia esperienza romana centri di informazione per gli immigrati occupazione di casa hanno dato un tetto ad intere famiglie sia di emigranti che italiani quindi c'è sempre quello che sta al centro sociale che beve e si fa una canna quello ci sarà sempre come ovunque c'è chi come dire prende solo la parte minore di una cosa ma ci sono anche effettivamente ragazzi che fanno delle cose che rischiano io pure ho rischiato diverse maziate e credo che sia però importante che ci sia una protesta che ci sia un dissenso che insomma che ci sia gente che perlomeno ti ricorda che bisogna fare qualcosa questo sì tu hai partecipato a Ballando con le stelle che rappresenta diciamo il massimo della cultura nazional popolare però allo stesso tempo sei impegnata in Messico a sostegno di queste comunità zapatiste non pensi che ci sia contraddizione fra queste due cose? allora intanto effettivamente io mi sentivo un po' strana quando facevo i balletti e poi scrivevo le lettere alle autorità zapatiste e ho definito questo un periodo di pallottole e paillette ed in effetti era un po' strano anche se poi in realtà come diceva Vasco quello che so è che dentro di me è tutto logico e in questa strana vita dal film erotico alle fiction ai balletti nazional popolari ai disobbedienti in realtà poi c'è un filo che come dire che mi fa capire cioè io che ne so alla vita in diretta da cucuzza parlavo degli zapatisti e quindi forse serve a questo forse questa mia strana vita serve a parlare di certe cose in ambiti dove se no non sarebbero mai arrivate finalmente un settore silenzioso fino adesso ciao volevo chiederti essendo tu un personaggio ormai popolare riprendendo un po' le parole del rapper Marrakesh ti senti più ciò che sei o dove sei? ma io mi sento di essere diventata quello che ero da sempre da piccola dentro e c'era una frase che diceva sei più te stesso quanto chi somigli all'idea che avevi di te e quindi il bene e il male che ho incontrato mi hanno aiutata a diventare quello che che volevo essere c'è stato un momento in cui stavo per perdermi poi invece cosa hai fatto per non perderti? beh la vita mi ha fatto fare gli incontri giusti credo che devi perderti per poi tornare io credo che ci sono diverse vite forse ti rifà nella prossima finiamo con questa cosa di multivita di Loredana Cannata che ringraziamo per essere stata con noi grazie a voi oggi abbiamo parlato di telli grossi signori abbiamo parlato della difficoltà degli esordi e ci siamo chiesti se veramente bisogna spendersi anche oltre i propri limiti per arrivare ai propri sogni questo non lo so continuiamo a parlarne anche sul nostro sito www.gap.rai.it grazie per essere stati con noi alla prossima puntata